A Pistoia e provincia prende il via un piano speciale per contrastare la malamovida con 200 telecamere puntate nei centri nevralgici delle città di Pistoia e di Montecatini, costantemente monitorate dalle forze dell'ordine, ma anche la possibilità di impiegare steward, guardie e giurate degli istituti di vigilanza. Il piano è stato messo a punto dalla prefettura di Pistoia e coinvolgerà tutte le forze di polizia, concentrandosi nei fine settimana. La decisione è stata presa nel corso della riunione in prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che ha approvato il piano strategico per il contrasto a degrado urbano, disagio giovanile e malamovida. I primi controlli sono partiti già sabato, anche in conseguenza dell'allentamento delle misure anticontagio. Intanto i sindaci si preparano a firmare ordinanze per vietare la vendita di alcol in vetro, per prevenire e contenere eventuali criticità riscontrate nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile. Il piano, oltre all'intensificazione dei controlli e ai divieti, prevede anche il coinvolgimento, insieme alle forze di polizia, degli attori istituzionali che partecipano al laboratorio per il confronto sul disagio giovanile, affinché possano essere adottati efficaci sistemi, anche di immediata realizzazione, in collaborazione con gli istituti scolastici, per prevenire fenomeni di bullismo e di altri comportamenti aggressivi e illeciti.